E siamo qua nuovamente per stupirvi. Ciao a tutti dalla 3D Graph, sono Paolo e voglio farvi vedere un'altra produzione che eseguiamo abitualmente. Queste borsette in carta, stampa fronte e retro, colore Havana, come potete vedere, molto molto belle e economiche. Pensate, il vostro marchio esce il cliente con il vostro prodotto e c'è il vostro brand, il vostro marchio che gira per la città, che fa vedere agli altri dove queste signore hanno acquistato. Insomma, chiedeteci un preventivo. Questo prodotto è bellissimo, costa poco e ci fate un gran figurone. Un saluto anche al Salone Lorena di Malo e da tutto lo staff della 3D Graph. Un bacio alla prossima, telefonateci per richiedere un preventivo. Bye bye!